E adesso parliamo di una novità davvero importante per l'economia tra Gata Alto Adige e Sitturone. Beh, ci sono diverse realtà produttive di cui la nostra provincia può andare orgogliosa. Fra queste c'è sicuramente la Leitner, azienda vipitenese impegnata, tra il resto con sempre maggiore successo, sul fronte della realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia elettrica. E nell'attuale difficile momento congiunturale assume ancora più importanza la notizia che viene dalla lontana India dove sono stati inaugurati i nuovi stabilimenti della Leitner. Lì, grazie ad un investimento di 16 milioni di euro, l'azienda Alto Adige potrà produrre 150 impianti eolici all'anno per il mercato asiatico. A Kennai, nel sud-est del paese, una superficie di 9 ettari ha permesso di realizzare 4 stabilimenti della Leitner nei quali lavorano attualmente ben 400 persone.